e ritorniamo qui in diretta caro Sajus dal MEI il nuovo MEI 2015 di FENZ il meeting delle etichette indipendenti e ripartiamo insomma con queste chiacchierate che ci hanno tenuto impegnato in questi ultimi due giorni mi alterno a Priscilla e quindi vi dovete beccare la mia brutta faccia qui con noi abbiamo Paolo Paolo Farina, ciao sto bene, non ho visto Priscilla per cui non posso fare confronti ti tocca, a me è comunque la tua testa se ti interessa passare di qui abbiamo visto che è un album un disco e quindi adesso magari ci dice anche cosa ci fai qui se lo vuoi promuovere io sono qua di solito tutti gli anni anche perché scrivo di musica per Musical News, sono redattore di Musical News con il nome di Lino Fari che è uno dei miei nomi, dei miei tanti nomi poi alcuni progetti musicali in prima persona e l'ultimo è questo qui che si chiama Vallone perché l'ho dedicato a Raff Vallone famoso attore ma non solo attore del neurorismo italiano è stato anche calciatore, è stato anche calciatore nazionale del Torino è stato anche giornalista e da giovane partigiano per cui mi sembrava importante dedicargli questo disco con il nome del progetto invece il disco in sé si chiama Multiversi che sta per tanti versi come quello di una canzone oppure il concetto di multiverso in astronomia cioè diversi universi che non si incontrano mai paralleli ma che non si incontrano mai come hai preso spunto da questa cosa? ma niente così l'hai sognato la notte? no no è una cosa di cui ho letto, che ho studiato però in molti versi sta benissimo anche come titolo di un disco perché in realtà all'interno se tu puoi girare la copertina puoi vedere che ci sono i testi riscritti a mano facciamoli vedere, aspetta, facciamoli anche vedere ok, va bene vedi ci sono i testi scritti a mano a cui sono stati sovrapposti sono stati sovrapposti delle immagini di universi soprattutto all'interno del libretto ce n'è di più, ce ne sono tanti e appunto per puntualizzare questo concetto allora nel disco ci sono dieci brani ed è il mio primo disco da cantatore perché prima ho fatto il prog prima ancora l'etnico ti sei dato da fare? no ma mi sono fermato per vent'anni da giovane ho fatto altro cioè nel senso che ho iniziato da giovane poi ho smesso per vent'anni e ho ripreso dopo i quarant'anni quindi a tutti gli effetti sono sempre tra gli emergenti dicevo che tra l'altro vengo sempre qui di solito ci vengo il sabato oggi sono arrivato in ritardo quindi ho preso un bel po' di roba ma vieni da lontano? no da Milano anche se l'accento non è milanese Milano Sud forse no Milano Sud Milano nel senso che io sono pugliese ed è anche per questo che ho fatto tre dischi a nome etnoritmo che è il mio progetto in dialetto tutti i miei dischi hanno un etichetto un distributore ricordiamo chi è allora l'etichetta? allora di questo ultimo disco vallone molti versi che appunto è il mio primo disco da cantautore quindi canzone da cantautore l'etichetta è Musita l'ufficio stampa è Libellula di Torino è il distributore fisico e audio globe poi naturalmente si compra su iTunes e gli altri negozi digitali e c'è comunque una pagina su Facebook che si chiama Progetto Vallone quindi Progetto Vallone che è la pagina appunto dove sul comparto diciamo social come stiamo andando? lo segui tu? chi lo segue? no seguo tutto io io praticamente questa è la prima volta che ho avuto un ufficio stampa per tre mesi ripeto Libellula di Torino che ha lavorato tantissimo però diciamo che anche buona parte la faccio io perché come ho detto prima sono anche io un giornalista nel senso che scrivo di musica come redattore di Musical News e quindi insomma eri già nell'ambiente indipendente e diciamo che quando hanno fatto il report quello di Libellula metà di quello che c'era dentro era dovuto a me nel senso che erano contatti che avevo procurato io ah beh quindi hai dovuto comunque in qualche modo ufficio stampa o no ho capito e per serate e concerti e lì come ti muovi? allora per serate e concerti è un disastro un disastro un disastro perché quando si parla di musica inedita nuova non cover e soprattutto adesso per esempio parlando dei miei primi tre dischi in dialetto io ho fatto dal 2002 al 2010 parlando soprattutto di musica che non è tamurriata che non è pizzica dove a Milano per tanti anni fino a meno fino a due anni fa c'è stata una grande moda per cui c'erano erano i concerti più affollati e quindi più pagati però dovevi fare le cover praticamente la musica tradizionale le cover cose che io non faccio perché diciamo che per certi versi giusto per capire il mio progetto è trono ritmo ripeto passato l'ho tenuto in piedi fino al 2011 si poteva accostare se vuoi a Van der Strauss l'operazione che ha fatto Van der Strauss utilizzando il dialetto però musicalmente ci ha messo dentro un po' di tutto dal rock al reggae anche il folk la sua chiave di successo però ecco lui ha avuto successo direttamente nella zona non so se questo lo sai il suo successo è iniziato in Svizzera nella Svizzera italiana penso non lo sapevo in una zona in cui parlavano proprio questo dialetto qui e poi da lì dopo si è fatto notare eccetera è vero e per quello che riguarda i canali social quindi anche il nostro Radio Science eccetera noi come tutte le chiacchierate che facciamo quest'oggi anche poi ieri ne abbiamo fatte veramente tante e avremo modo appunto di taggare o comunque mettere quel famoso hashtag quel riferimento sui siti a come era il ballone progetto 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 ballone è la pagina non approfitto vuol dire adesso è uscito il primo il primo videoclip ufficiale del disco che è fatto con diciamo l'unica canzone elettronica che si chiama La stanza delle tre ombre però è fatto con dei quadri di De Chirico perché è una canzone dal testo metafisico ispirato dalla visione dei quadri di De Chirico per cui questo è un video che ho fatto io ma intanto sto lavorando al video importante che sarà poi tra un paese di settimane quando presenterò il disco Avvenil Mania a Milano il 17 ottobre che è il video della canzone Giulia Giura di cui io ho pubblicato un'anteprima del backstage cioè delle riprese che ho fatto io mentre l'operatore riprendeva la ballerina perché diciamo che il video è basato su una coreografia di una ballerina e poi sarà basato su di me che canterò racconterò questa storia io ho pubblicato su quella pagina lì di Vallone su Facebook un'anteprima di questo video e in due settimane ha raggiunto 217 mila visualizzazioni si può controllare si può controllare anteprima video Giulia Giura sul progetto Vallone esatto hai fatto bene 217 mila eh non male non male diciamo che numeri ci sono e l'esperienza pure quindi che dobbiamo fare tu come date quindi adesso non ne hai ancora fissate allora il mio problema è il gruppo live nel senso che io nei dischi ho moltissimi amici musicisti bravi importanti anche basterebbe leggere l'elenco un po' no faccio solo un nome cioè chi ha fatto i messaggi di questo disco è il fonico di Ligabue si chiama Paolo Gafferice naturalmente a me ha fatto un prezzo diverso perché Ligabue quando produce per un provino di un prezzo spende meno di quanto ho speso io per tutto il disco quindi invece no però ho la fortuna di avere la stima e l'amicizia di alcune persone invece il coarrangiatore coproduttore artistico si chiama Lele Battista non so se non lo conoscete tra le altre cose oltre che essere un cantautore e lavorare per la Mescal è stato anche coach vocal per Morgan all'ultima edizione di X Factor tra le altre cose no no quindi diciamo che è un bel cast esatto poi ci sono anche diversi musicisti alcuni molto conosciuti insomma ma che altro dire Paolo noi ti ringraziamo di questa chiacchierata che abbiamo anche noi nel nostro piccolo fatto conoscere chi è Paolo Farina ma soprattutto il progetto Vallone quindi vedremo anche di seguire i tuoi lavori e se vuoi anche vedere questa chiacchierata che adesso è in diretta ma c'è una registrazione che verrà messa sul podcast segui anche tu la pagina Facebook di Radio Saus dove appunto avrai modo e avranno modo anche gli ascoltatori e chi ti segue di vedere questa chiacchierata e magari tutti i lavori benissimo ma questo da quando? in settimana in settimana ok più o meno da quando verrà montato pulito tutto il lavoro eccetera voglio dire ancora una piccola cosa per ascoltare i brani cioè a parte su youtube ci sono anche non so chi li abbia messi però ci sono anche diciamo i video con la sola copertina di tutti i brani quindi si possono anche ascoltare tutti i brani del disco anche su youtube si si tutti i brani a parte il video ufficiale il primo video ufficiale è quello che arriverà si possono ascoltare tutti i brani esattamente bene grazie grazie a tutti grazie ciao alla prossima per fare una foto